Siamo ad Amici di Brugge 2010 con Angelo Montella, capo area centro-sud Italia della Zermac e gli chiediamo quale sono le novità che presenta la Zermac al congresso. Salve, buongiorno. Zermac in questo contesto, Amici di Brugge 2010, presenta per quanto riguarda la linea studio un nuovo alginato Hydrocolor 5, dalle caratteristiche di un alginato cromatico di alta definizione con un gusto di cold berry che dà una sensazione di freschezza. Nell'ambito invece del laboratorio odontotecnico presentiamo un nuovo sistema di saldatura Quasar Plus. Quali sono le novità di questo nuovo sistema di saldatura? Questo nuovo sistema di saldatura Quasar Plus integra praticamente una saldatura di infrarossi con un sistema di puntatura al plasma. È un'innovazione perché integrando due sistematiche di lavoro in una, oggi rende questa nuova apparecchiatura un sistema alla portata di tutti estremamente semplice, veloce ed economico. Quindi si confronta sul mercato con sistematiche evolute, quali laser e quali sistemi TIG, ma l'efficacia e l'efficienza di questo sistema proprio per la sua facilità di applicazione ci permette di offrire all'odontotecnico un qualcosa di veramente unico. Allora questa macchina prende come caratteristiche primarie un modulo praticamente plasma integrato in un sistema di saldatura ad infrarosso dove questo modulo ci permette direttamente sul modello di andare a puntare la struttura primaria. Con l'ausilio diciamo di una lega che sia simile o uguale nelle caratteristiche tecniche della lega primaria. Bloccando sul modello questa struttura e non avendo lì nessuna forma di contrazione o modifica, passiamo successivamente a una fase di fusione di una saldobrasatura attraverso un sistema di precisione, quindi a temperatura controllata per quanto riguarda la fusione di questo metallo. Questo comporta quindi una velocità di esecuzione in quanto i manufatti non necessitano di essere bloccati in una massa di rivestimento. La qualità della saldobrasatura è eccellente perché abbiamo un controllo sulle temperature e quindi non andiamo chiaramente ad inficiare il reticolo molecolare della lega. Questo sistema comunque permette all'odontotecnico di andare ad ossidare soltanto una parte integrata in un centimetro circolare. Rende il sistema veloce proprio per questo motivo, non avendo un'applicazione con un sistema che prevede messi in rivestimento, quindi si riducono notevolmente i tempi, quindi nonché prende la manodopra dell'odontotecnico, riusciamo ad avere un costo saldatura estremamente basso. Oggi sistemi alternativi quali laser e quali TIG hanno chiaramente una difficoltà di esecuzione per la quale è prevista una serie di spot di luce e di energia che praticamente oltre a determinare eventuali contrazioni possono generare un tempo di esecuzione lungo e quindi ad avere dei costi notevolmente elevati, nonché un ammortamento difficile di quello che è il bene che ha dei costi estremamente elevati. Noi come azienda proponiamo al mercato questa nuova macchina tenendo in modo particolare la formazione dell'odontotecnico su questa nuova sistematica di lavoro. Quindi insieme a una proposta commerciale offriamo un corso di formazione presso laboratori specializzati su questa sistematica per far sì che tutto questo diventi veramente uno strumento quotidiano di lavoro e faccia sì che l'odontotecnico in una risoluzione di un problema spesso abbastanza grave e sentito abbia una soluzione certa.